Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà! Sì, ciao a tutti! Buona domenica! Ciao Dino! Ecco Dino! Sergio, Sergini! Sì! Ciao Stefania! Ciao! Questo è lo spazio dedicato ai bambini! Sì! E siamo ancora con una canzone... Di Natale! Di Natale, che bello! Cosa si chiama questa canzone? Lo dico io! Lo vuoi dire tu Dino? Sì! Come si chiama? Il Natale arriva in città! Oh, il Natale arriva in città! Che bello! Sì, bellissimo! Lo cantate insieme? Sì, ho deciso che lo cantiamo tutti quanti insieme! Ok! Scusa, ma dove è Roger? Roger? C'è anche Roger? Dorme come al solito, sta dormendo! Roger, chiamatelo voi! Roger! Roger! Oh, oh, chi è? Oh, dove? Oh, di nuovo qui! Siamo a cantare libertà! Eh sì, Dormiglione! Buongiorno! Ciao! Eh sì, che cosa devo cantare? Eh, sì, stiamo iniziando! Iniziando! Ok! Bene, allora possiamo iniziare! Roger, smetti di dormire questo tuffo davanti agli occhi! Ok! Scusate, scusate! Eh, inizio io! No, non inizi tu! Inizia! Vediamo Sergio, che tu sei il cantante principale! Sì, allora, dico che inizio io! Eh, beh, giustamente! Allora, facciamo così! Ci alterniamo! Sì! Siccome io devo suonare la chitarra e così siamo un po' ingombranti e l'espazio è piccolo, facciamo uno per volta! Ok, dai, ok! Ok, ci sto! Va bene! Perfetto! Non ti addormentare nel frattempo, però! No, no, tranquillo! Ok! A posto! Allora, inizia Dini, inizia Sergio! Sì, inizio io! Poi... E poi c'è Dino, giusto! E poi... Sì! Roger! Sì! Ok! Ok, perfetto! Allora, come si chiama questa canzone? Il Natale arriva in città! Subito dopo la sigla! Canta, canta, canta! Cantare libertà! Cosa sera vedrai, qualcosa accadrà, qualcosa di magico succederà! Ah, buon Natale! Ah! Oh, buon Natale è là! Il Natale arriva in città! Lui sa se stai vivendo, e sa quando ti sei lì, se sarà stato buono! Il Natale arriva in città! Il Natale arriva in città! Oh, bravo! Oh, bravo! Hai fatto anche lo sbadiglio finale! Bravo! Allora... Dove sono gli altri? Oh, stai vivendo qua! Prendiamoli, prendiamoli! Prendiamoli! Oh, bravo! Oh, mio Dio! Stanno... Arzuppando... Vabbè... Rimanete così! Che sta succedendo? Eccoci, eccoci! Oh, aiuto! Oh, si è... Eroo... Stretti! Bene, allora ragazzi! Spero vi sia piaciuta questa canzone! Noi abbiamo fatto di tutto per far cantare tutti questi personaggi! Grazie Stefania! Grazie a voi! Ci vediamo, bambini, domenica prossima! Ciao! Ciao!